e bella a tutti ragazzi in questo mio nuovissimo video io sono assassin craft e ben ritornati sul canale oggi siamo qui signori per fare l'estrazione di questo benedetto contest perché raga veramente mi avete inondato di commenti dicendo ma quando è il contest quando è quando è roba del genere quindi oggi siamo qui per soddisfare la richiesta di tutti di tutti e siamo qui raga sempre sullo stesso sito quindi per vedere chi vincerà ovviamente raga mettiamo il filtraggio del testo gli hashtag quindi raga incolliamo il nostro url e qui adesso immettiamo partecipo come vedete raga e punto esclamativo a partecipo ottiene i commenti su youtube quindi numero di commentatori 11 quindi ci sono stati 11 persone che hanno scritto così adesso ragam vedremo chi è prima però ragazzi dovete lasciare un bel like ed iscrivervi innanzitutto e attivare la campanellina e se volete altri contest raggiungiamo i 450 sub perché raga li farò un altro contest perché ogni 50 sub faccio un contest quindi raga vediamo chi è il vincitore 3 2 1 via olè e raga il vincitore è cd-zeit quindi raga tu cd-zeit sei stato il vincitore di questo contest e scrivi qui sotto il tuo nickname così ti inviarò la richiesta ti regalerò la skin da 800 v bucks con cui tutti praticamente si stavano contendendo bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre dal vostro source in craft è tutto bella